la persona cercano di difendere abete e di portarlo in salvo in una pietineria ma i agresori ragionano a bene prima che entri in Roma non lo faccio e io non lo faccio però non lo faccio ma non lo faccio ma non lo faccio non lo faccio non lo faccio ci faccio si faccio staccio Non c'è un calcio in faccia. Il nostro camera viene addorolante in ginocchio.